Il Bologna allunga ulteriormente il passo, due punti pesanti contro una Lazio in salute, in serie positiva da 11 turni. Rosso-Blu in vantaggio dopo 5 minuti, la legge dell'ex non perdona, Marocchi lancia poli, controllo ed esecuzione sono perfetti. La Lazio reagisce, prima Savino impegna Cusin, poi al ventesimo Pinn offre un bel pallone a Galderisi. Villa è costretto ad usare le cattive maniere, però il pallo forse è commesso fuori area. Dal dischetto, tiro telefonato di Monelli, bravo comunque Cusin. Da segnalare prima dell'intervallo un assolo di Marronaro che salta mezza difesa e vuoi conclude a lato. Nella ripresa Fascetti fa entrare Muro al posto di Esposito, Cusin deve uscire alla disperata sui piedi di Pinn. Al dodicesimo Marronaro vede in buona posizione Marocchi, colpo di testa smarcante, conclusione altissima del centrocampista. Proprio quando il Bologna sembra in leggera difficoltà i Rosso-Blu sferrano il colpo del K.O., lancio di Pecci, tiro a rientrare di Marronaro. La tifoseria bolognese è in tripudio. La Lazio non ha più la forza di reagire, la squadra di Maifredi si limita a controllare. Prima del fischio di chiusura una traversa colpita da Savino.